Bene, buonasera e benvenuti a tutti. Iniziamo questo incontro. È un incontro per presentare, ma è anche un pretesto, quello di presentare l'ultimo numero di Limes dedicato al nostro Paese, l'Italia dopo l'Italia, che si potrebbe anche in battuta dire l'unità dopo l'unità. È, come dicevo, un pretesto, nel senso che si vuole fare questa sera una riflessione non formale, non banale, sui temi dell'unità d'Italia, sul 150esimo anniversario dell'unità del nostro Paese. E nel numero di Limes è presente una riflessione non formale, non celebrativa, non banale, che mette le mani intorno ad una complessa realtà, ricca di contraddizioni, ma anche ricca di potenzialità. Credo che in questa rivista vi sia un contributo importante per capire la complessità dei processi che stiamo vivendo e la complessità di un processo unitario che probabilmente ancora non è concluso. Le tensioni che sono presenti allo stato delle cose all'interno del nostro Paese, che ogni giorno sono in evidenza al di là della cronaca politica spicciola. E anche l'urgenza per il nostro Paese di ritrovare la strada convincente di un'unità fondata sulla crescita del Paese, sull'uguaglianza sociale e sulla solidarietà. Intorno a questo tema, intorno all'Italia dopo l'Italia, intorno all'unità dopo l'unità, intorno al tema più generale di come si può riprendere a crescere e a superare contraddizioni e tensioni, e aprire un processo vero di unità del Paese, non solo formale ma sostanziale, questa sera ne ragioniamo con alcuni ospiti che ho il piacere di presentarvi. Intanto partirei dalla mia sinistra, da Antonio Pennacchi, scrittore Premio Strega 2010 con Canale Mussolini, un bellissimo romanzo intenso su un momento importante della nostra storia nazionale. Ma anche autore di Mammut, che è quel romanzo che abbiamo messo... Prego, sindaco. No, no, vieni. È qua. Benvenuto. No, facciamo i giornaloni. E tu in croce. Ma anche di Mammut, come vi dicevo, che è una riedizione di un libro che ha avuto un percorso molto difficile e complicato, poi lo dirà Antonio Pennacchi, perché ha segnato un po' la sua storia iniziale di scrittore, che non era fatta di grandi successi iniziali, ma anche di grandi rifiuti da parte dell'editoria. Eppure è un romanzo importante, che anche oggi ha una sua straordinaria attualità, perché è un romanzo sulla condizione operaia. È un romanzo sul lavoro, sulla fabbrica, sulla democrazia in fabbrica, sulle relazioni sindacali. E leggere questo romanzo, alla luce delle vicende di Mirafiori, alle vicende della Fiat, è oggi particolarmente interessante e significativo, perché ci troviamo dentro quel romanzo una serie di riflessioni che ancora oggi si propongono all'attenzione del movimento operaio e delle organizzazioni sindacali. Proprio perché è un libro sulla democrazia sindacale e sui rapporti sindacali e industriali. Saluto alla mia destra il sindaco di Reggio, Graziano Del Rio, che abbiamo sottratto ad un altro impegno al di là del parco, all'università. La sua presenza, parlando dell'Unità d'Italia dei 150 anni, è d'obbligo, nel senso che abbiamo con noi il sindaco della città del Tricolore, che quest'anno ha organizzato iniziative molto belle e non retoriche intorno ai temi dell'Unità nazionale. Voglio ricordare la presenza di Napolitano Reggio il 7 di gennaio, voglio ricordare la non banale relazione fatta dal professor Meloni in quella circostanza, una relazione molto bella, molto ricca di spunti, che dovrebbe essere attentamente meditata. Iniziative diverse sono state fatte, il 17 marzo, anche in altri momenti, insomma il Comune di Reggio si è davvero impegnato per trovare dentro il tema dell'Unità d'Italia una ragione forte di appartenenza, ma anche di nuovo impegno per la solidarietà e per l'unità. Lo storico Meloni, lo ricordavo prima, sempre alla mia destra, professore all'Università di Modena e di Reggio, ci segue ed è nostro amico da tempo, con lui abbiamo fatto diverse iniziative, ripeto ha svolto una produzione molto bella all'incontro con il Presidente Napolitano al Teatro Valli e oggi darà il suo contributo, ancora una volta ritengo, importante e stimolante alla nostra iniziativa. Il Presidente di Lega Coop, Giuliano Poletti, che in questo numero di Limes scrive un saggio sul tema della cooperazione e dell'Unità d'Italia, cioè di come la storia della cooperazione si intreccia col percorso unitario del nostro Paese, quindi quello che è stato il nostro contributo, io direi, Giuliano, quello che può essere ancora il nostro contributo in una fase che ci auguriamo essere di ripresa della crescita, della coesione sociale e della solidarietà all'interno del nostro Paese, quindi l'impegno per il futuro. Infine, lo tengo per ultimo perché, diciamo così, l'amico caro che posso permettermi di tenere per ultimo, ma non da ultimo, il nostro amico Dottor Caracciolo, direttore di Limes, col quale collaboriamo intensamente. Limes è una rivista straordinaria, importante, una delle migliori che ci sono a livello nazionale sui temi della geopolitica. Con lui collaboriamo e oggi ho il piacere di dire, non so se lui lo sa già, ma ne approfitto per dare un'informazione a tutti, che nella giornata di venerdì abbiamo costituito l'Associazione Studi Politici... L'Associazione Studi Politici Limes Club di Reggio Emilia, otto fondatori, daremo notizia di questo fatto, abbiamo costituito l'associazione, la società dal notaio, sono otto fondatori, ovviamente l'associazione è aperta a tante adesioni e ci auguriamo entro la fine dell'anno di poter fare una bella iniziativa con tutti i soci che pensano o penseranno di diventare protagonisti insieme a noi di una stagione di riflessione intorno ai temi della geopolitica. Andiamo a sottrarre un po' di lavoro a Borea, ma poi Borea ha tante altre cose da fare e quindi Club Limes troverà sicuramente un suo spazio. Quindi oggi ci avvaliamo ancora una volta del suo contributo, che sarà un contributo importante. Concludo questa mia brevissima presentazione dicendo che il tema dell'Unità d'Italia del 150esimo è un tema che abbiamo ricordato con celebrazioni ufficiali, ma che non abbiamo mai assolutamente voluto banalizzare. Ed è anche lo sforzo che vogliamo fare oggi, cercando di capire se c'è un sentimento generale ancora intorno ai temi dell'Unità, che cosa significa essere oggi italiani e se è ancora un valore tra la gente essere oggi italiani. Ma soprattutto vorremmo fare questa riflessione non eludendo alcuni straordinari problemi che il nostro Paese ha di fronte e che sono affrontati anche nella rivista, cioè il tema della crescita, del superamento delle disuguaglianze territoriali e sociali, la costruzione di un Paese per le nuove generazioni. Oggi si parla che questo nostro Paese non è un Paese per giovani, ebbene abbiamo il problema di costruire un Paese per le nuove generazioni, le riforme istituzionali, la riforma della politica. Parlando dell'Unità d'Italia, tutti questi grandi temi cadono ovviamente su questo terreno. Io vorrei solo fare due citazioni, se mi è consentito, tratte dalla rivista come apertura alla nostra discussione. La prima citazione la voglio fare dall'introduzione, dall'editoriale di Rimes, ed è questa frase, secondo me, molto efficace, che ci dà anche il senso della discussione importante che possiamo fare. Si dice dentro l'editoriale, per salvare ciò che è vivo della storia unitaria, occorre emanciparsi da ciò che è morto, ma continua a pesare su di noi. È l'esperimento che vorremmo qui accennare, partendo dalla coscienza che per stare bene insieme, servono vincoli sia esterni che interni. L'Italia non è un fine in sé, né ovviamente è un fine altrui. La memoria dei 150 anni, possibilmente non relegata nelle ritualità istituzionali, ma oggetto di pedagogia nazionale a partire dalla scuola italiana, serve a saldare le strutture e le legature sociali. Ma servare il patrimonio delle glorie trascorse diventa operazione geopolitica solo riconnettendo l'Italia, tutta l'Italia al mondo. Mi pare, diciamo così, un'apertura, è un programmino da niente questo, è un programmino da niente, però direi che è un po' il cuore fondamentale dell'editoriale. Così come vorrei citare due passaggi della bella relazione di Ilvo Diamanti, tratta da uno studio fatto dal San Paolo, relativamente al fatto se gli italiani si sentono ancora orgogliosamente tali, se c'è ancora un sentimento unitario e un sentimento forte nel sentirsi italiani. E ci sono due passaggi molto belli che io qui dico brevemente. In uno si dice, Ciò che inorgoglisce gli italiani appartiene più al passato che al presente, più alla tradizione, alla sensibilità artistica e alla natura che alla dimensione pubblica, per cui lo Stato è pensato come una variabile indipendente. Appare quindi slegato dall'idea che gli italiani hanno del sentirsi italiani, o meglio, lo percepiscono come altro, un elemento di cui ci si serve ma a cui conviene sottrarsi. E poi ancora, eppure, e questa è la nota positiva e conclusiva della sua riflessione, eppure scommettono che fra dieci anni gli italiani intervistati il Paese sarà ancora unito, in un'Europa ancora unita, scommettono che si canterà ancora l'inno di Mameli, che il tricolore continuerà a sventolare, nonostante lo Stato e le leggi, nonostante la crisi economica. E se si sentono frustrati dal presente e dal passato recente, se il futuro è fuggito, allora si rifugiano nel privato, nella famiglia, nella memoria e nei miti della storia. Questo Paese, insomma, disincantato e disilluso, e nonostante tutto, unito. Questo Paese di italiani, nonostante tutto, italiani. Questa è la conclusione dello studio che commenta Ilvo Diamanti, direi una conclusione molto bella, molto interessante da approfondire. Ecco, direi di aver fatto la mia parte come apertura di questi nostri lavori, la parte più importante, la devono fare i nostri relatori, io parterei, come sempre, da Lucio Caracciolo. Grazie, Ildo. Buonasera. È sempre un piacere essere qui con gli amici di Reggio Emilia, specialmente oggi che celebriamo la nascita dell'IMES Club. Io sono particolarmente grato a tutti gli amici che hanno contribuito a fondare questa iniziativa, che mi auguro abbia una sua specificità, al di là di quello che potremo fare in termini di incontri, di presentazioni. Cioè, come d'altronde abbiamo fatto in questo numero, io sono molto interessato alla geopolitica interna, cioè ai pezzi d'Italia che vengono analizzati, studiati, in quanto tali e non semplicemente nei contesti nazionali o internazionali. Quindi anche gli approfondimenti, diciamo, di geopolitica locale o regionale che possono venire dai vari IMES Club li trovo sempre molto interessanti. Ma oggi parliamo d'Italia. Quando qualcuno, e quando questo qualcuno, poi una nazione, comincia a chiedersi qualcosa su se stesso, è sempre un brutto segno. La forza dell'Italia e degli italiani è sempre stata quella di non porsi la domanda. È un dato. L'Italia c'è, gli italiani ci sono. Se cominciamo a porci la domanda, vuol dire che c'è il problema. In Europa forse l'unico paese o l'unico popolo che almeno fino a qualche tempo fa, ma credo ancora oggi, si poneva angosciosamente questo interrogativo, erano i tedeschi. Quanti convegni, Was ist Deutsch, tutti questi convegni sull'identità tedesca, erano il sintomo di una sofferenza, d'altronde inevitabile, avendo il passato che hanno avuto, ma che noi non abbiamo mai avuto. Anzi, devo dire che da questo punto di vista la performance della Prima Repubblica nata sulla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale è stata davvero brillante. Cioè ha assunto l'Italia come un dato, semplicemente perché non c'era bisogno di porsi questa questione. vorrei anche però ricordare che nel frattempo sono cambiate alcune cosette che rendono l'Italia un pochino più problematica e la questione dell'identità nazionale italiana altrettanto problematica e comunque discussa. E quando la si discute vuol dire che c'è un motivo per farlo, o almeno dovrebbe esserci. Vorrei ricordare che questo paese non è fondato tanto sulla sua Costituzione formale, quella del 1948, quanto sulla sua Costituzione materiale, precedente di un anno, il Trattato di Pace del 1947. Quello è il documento fondamentale dell'Italia contemporanea. Cioè il documento di un paese sconfitto, atterrato, amputato di gran parte del suo territorio esterno, quello che in parte era stato anche annesso alla madrepatria, e ridotto a paria sulla scena internazionale. Ecco, questa era l'Italia che rinasceva nel 1947 in forma, diciamo così, dimidiata, per essere gentili. I tre pilastri di quella Italia, nel frattempo, in questi 60 anni, hanno fatto una brutta fine. Quali erano questi tre pilastri? La Nato, cioè l'America, nata come un mezzo per contrapporsi al pericolo sovietico, alla minaccia sovietica, e che ormai è ridotto a un fine in se stesso, nel senso che è un'organizzazione militare, una specie di magazzino di armamenti, che ogni tanto per darsi un senso deve andare a bombardare qualcuno, ma non ha più, evidentemente, quel senso geopolitico e strategico che ha avuto fino a che esisteva l'Unione Sovietica. quindi la Nato è scaduta da mezzo, utilissimo e vittorioso, a quanto pare, a fine in sé. Il secondo pilastro su cui ci siamo retti in questi 60 anni, su cui fingiamo ancora di reggerci, è la famosa Europa, che invece era stata pensata o c'era stata presentata come un fine, un fine di superamento degli Stati nazionali. La somma di questi Stati nazionali, mescolata in questa salsa europeista, avrebbe dovuto produrre qualcosa di nuovo. Bene, questo fine è scaduto a mezzo. Cioè è diventato un mezzo che viene utilizzato a seconda delle circostanze, ma soprattutto dei rapporti di forza, dai suoi singoli Paesi membri, per ottenere dei vantaggi. Il terzo pilastro, quello che governava in qualche modo un orizzonte, se vogliamo, storico-politico e che contribuiva anche esso a limitare quella modesta quota di sovranità che c'era stata lasciata nel 1947, è il Vaticano. E su questo Alberto evidentemente potrà dire molto più di quanto dico io. La mia impressione è che il ruolo del Vaticano in Italia in questi 60 anni si è drasticamente ridotto, per usare un'espressione gentile, malgrado ancora la nostra classe politica e anche i media diano una notevole importanza all'influenza della Chiesa in Italia, a mio avviso questa influenza è estremamente ridotta e anche il riferimento, chiamiamolo così, etico-morale di questa istanza si è notevolmente impallidito. Anche perché le figure dei papi stranieri qualcosa significano, specialmente quest'ultimo papa ha un rapporto, diciamo, di modesta intrinsechezza con il nostro paese, se lo confrontiamo con un Paolo VI, tanto per non fare nomi, e sul significato politico di quel papato in Italia, evidentemente, ci rendiamo conto dell'oiato fra quello che era il ruolo della Chiesa nel codeterminare l'Italia 30-40 anni fa e il ruolo che ha oggi. Nato, cioè America, Europa, Vaticano. Sembra che gli altri abbiano altre cose di cui occuparsi ed è normale che lo sia perché l'Italia ha perso quella che era la sua rendita geopolitica, noi eravamo in qualche modo la rete che divideva un campo dall'altro, ogni tanto qualche palla andava a finirci dentro e quindi per solo questo fatto eravamo un fattore interessante e rilevante. Questo però ci pone un problema e cioè dobbiamo, credo, fare una scelta o accettare di diventare quello che in parte già siamo e cioè una terra nullius o se volete una terra omnium nel senso che ognuno ci può fare quello che vuole e questo vale anche per gli italiani che la abitano ma non solo o diventiamo o cerchiamo di diventare un soggetto che partecipa insieme ad altri soggetti in particolare con i nostri cosiddetti partner europei in una competizione in cui si redistribuiscono risorse economiche, politiche in cui si ridefiniscono rapporti di forza in base ai decisori di ultima istanza che fino a prova contraria restano ancora i famosi stati nazionali che l'Europa avrebbe dovuto superare in nome di qualche cosa che non è mai stato definito e non è mai stato definito non perché ci sia qualche complotto internazionale ma semplicemente perché è impossibile farlo dato che ognuno ne ha un'idea diversa perché appunto deve essere un mezzo che serve ai fini dei singoli paesi in questo contesto ecco che noi ci troviamo quindi di fronte alla questione dell'identità che ci poniamo all'italiana ce la poniamo in termini un po' melodrammatici anche il sondaggio di cui faceva prima riferimento Ildo è un sondaggio che ci dice molto di come noi ci poniamo di fronte a noi stessi per esempio il nostro orgoglio nazionale che è molto più forte di quello che normalmente si considera si basa su fattori che non hanno nulla a che fare con il nostro presente e ancora meno a che fare con il nostro fare mi riferisco in particolare all'arte al territorio alla gastronomia lì c'è del fare effettivamente che sono i riferimenti fondamentali a secondo almeno tutte le inchieste della nostra identità noi ci sentiamo orgogliosi di essere italiani perché effettivamente siamo in un bel paese con un patrimonio artistico unico al mondo e tutte le bellezze che sappiamo ma per questo c'è bisogno di uno stato evidentemente no e questo mi porterebbe a concludere che contrariamente a quello che si dice il problema dell'Italia non è che non siamo una nazione noi siamo una nazione e lo siamo al punto che ci identifichiamo con questa nazione in modo magari più forte di molti paesi europei che pure hanno un'idea abbastanza forte di sé il problema è che la nostra idea di nazione prescinde dall'idea di Stato cioè non ha una vera componente politica è una componente se vogliamo così sentimental psicologica che può essere declinata politicamente in vari modi ma non necessariamente nella categoria di Stato nazionale insomma se sulla scena internazionale tutti giocano a ramino e noi pretendiamo di giocare a poker insomma se facciamo un altro gioco evidentemente partiamo svantaggiati tutte le altre nazioni in un modo o in un altro con tutti i mascheramenti e le foglie di fico che si vogliono vengono in qualche modo presentate si presentano sulla scena degli scambi internazionali in quanto Stati noi abbiamo pensato di poterne fare a meno in fondo anche il nostro europeismo era questo perché ci piaceva adesso un po' meno l'Europa perché pensavamo che fosse il contrario dell'Italia poi quando abbiamo capito che l'Europa assomigliava un po' troppo all'Italia allora abbiamo perso anche un po' d'amore nei confronti dell'Europa è evidente che o noi diamo una connotazione dinamica politica al nostro essere italiani che non si riduca la componente appunto sentimentale artistico gastronomica oppure saremo semplicemente palleggiati da soggetti altrui per quello che interessiamo e cioè direi piuttosto poco a questo proposito vorrei concludere con un dato di cronaca voi avete visto che sui nostri giornali è stato molto sbandierato negli ultimi mesi nelle ultime settimane il fatto che il prossimo capo della Banca Centrale Europea sarà Mario Draghi il Presidente il Governatore della Banca d'Italia è vero un italiano alla BCE sembra una grande conquista il problema è che se voi leggete i giornali inglesi francesi tedeschi noterete che tutti dicono che e certo Mario Draghi è una personalità di grande livello ci piace proprio perché non è italiano e voi lo vedete rappresentato in alcune vignette del Financial Times piuttosto che della Frankfurter Allgemeine o con l'elmo Guglielmino o con diciamo una figurazione anglosassone come per dire Draghi è bravo malgrado sia italiano il guaio ma questo è normale il guaio è che questo piace anche a noi cioè a noi Draghi piace in quanto non ci assomiglia allora un paese che ha questa idea di come può porsi rispetto al mondo evidentemente non può essere rispettato e se noi manchiamo di rispetto a noi stessi non possiamo chiedere ad altri di rispettarci come immaginando diciamo una estrapolazione lineare di questa situazione come potremmo andare a finire ma se noi non ritroviamo una ragione cogente per diventare soggetto è evidente che le tendenze attuali cioè le tendenze ai particolarismi ai localismi ai corporativismi alla cultura della rendita che è la vera cultura nazionale saranno sempre prevalenti e in assenza di quei vincoli esterni che abbiamo perso America Europa Vaticano diventeranno determinanti non ci saranno più fattori esterni che potranno in qualche modo surrogare queste tendenze e allora dovremmo attrezzarci perché un paese che si basa su quei fattori che ho citato è un paese che si avvia una forma chiamiamola così di guerra civile soft non quella vera che per fortuna abbiamo superato e che penso non ci sarà mai più ma semplicemente una convivenza in alveari separati in ghetti molti dei quali saranno occupati da stranieri e che noi considereremo un dato di fatto altrettanto indiscutibile come la nostra italianità proseguiamo il nostro giro di interventi dando la parola al professor Melloni grazie come ovvio che sia anche in questo fascicolo di Limes gli spunti di riflessione di discussione sono infiniti e tutti estremamente interessanti a me alcune cose hanno colpito anche per la loro novità rispetto al dibattito circolante anche se non certo rispetto ai problemi per esempio uno in modo particolare l'ho trovato molto interessante è molto tempo che mi chiedo come mai nella discussione sul federalismo non si era che io sappia mai sentito parlare del federalismo del debito di come si divide il debito che è una cosa se volete anche abbastanza semplice non dirò banale che però non è mai entrata nel discorso politico dalla polemica politica dove invece si usano altri tipi di metafore e di fenomeni come ovvio che sia per un fascicolo di Limes la tentazione ovviamente è quella di prendere le cose infinitamente alla lunga e infinitamente alla larga perché per se fare un discorso su una nazione come quella italiana vuol dire anche fare un discorso sugli stati nazione in genere lo stato nazione è un'invenzione cinquecentesca che grosso modo e da tutti i punti di vista è arrivata verso la fine della sua stagione propulsiva e gli stati nazione nascono come grandi aggregati come contenitori capaci di catalizzare dell'attenzione oggi anche i più piccoli stati nazione come quello belga vivono invece una pressione totalmente contraria che è quella della pressione a dividersi la pressione a dividersi che ha molte cose ancora rimango sulle generali del tutto a specifiche rispetto all'Italia non è che il sentimento divisivo che percorre questo paese sia del tutto ignoto ad altri paesi europei anzi in altri paesi europei ha anche dei connotati più forti del del nostro e fra le ragioni che rendono possibile questi fenomeni divisivi naturalmente ce ne sono moltissime la più importante delle quali è quella che su questo forse è un'opinione diversa Lucio il grande contenitore europeo nel suo insieme garantisce tutti abbastanza del fatto che anche se sei piccolino il tuo vicino grosso non ti invaderà se puoi fare il vallone che non sopporta più i fiamminghi in Belgio è perché sei sicuro che anche dopo la nascita del bambino di Carlà M. Sarkozy non invaderà la vallonia annettendola d'imperio e la Spagna non andrà a riprendersi le fiandre a colpi di cannone e che alla fine il Tirolo finiremo per tenercelo noi con tutto quello che ci costa e questa possibilità di fare riaffiorare le differenze non appare soltanto nel terreno politico c'è un dato che a me ha sempre molto meravigliato che potrebbe essere una cartina di questo fascicolo il sistema universitario italiano che come sapete si è molto moltiplicato e frammentato negli ultimi venti anni ha fatto riaffiorare ovunque ovunque i confini preunitari Modena con Reggio Parma da sola Piacenza con Milano Bologna con le Romagne come ai tempi dello Stato Pontificio la Tuscia il Piemonte orientale il Piemonte occidentale Rovereto non con Trento ma con Verona Bolzano da sola è una cosa molto divertente perché è una di quelle cose che non è stata fatta con consapevolezza e neanche credo in base ad impulsi atavici come quelli che dividono l'Italia che cucina col burro da quella che cucina con l'olio e questo tipo di tradizioni longobardi bizantine che ancora rimangono nella nostra storia lo sapete quando si arriva dopo Imola si finisce di mangiare col burro e si incomincia a mangiare con l'olio ed è un confine che è sparito nell'893 nell'893 però è ancora lì gastronomicamente immobile a marcare due mondi con l'olio di brisighelle e quello che ne consegue dopo Imola incomincia l'olio dopo Imola incomincia l'olio Massimo Montanari la storia della cucina italiana esattamente e questa tendenza a ridividere e ritrovare delle configurazioni aveva avuto dei tentativi di risposta politica che forse meritano di essere ricordati e uno ovviamente per ragioni campanilistiche non nazionali va qui ricordato ed era il disegno della padania di Guido Fanti 1973 inaugurazione del sistema regionale con l'accento sulla I perché Ovidio Capitani aveva insegnato a tutti a dire la padania che era appunto la terra longobarda non certo quella celtica e che doveva essere nell'idea di Fanti un accordo fra regioni con delle capacità amministrative di problemi sovrastrutturali e di carattere comune che ovviamente avevano specificità riguardo le velocità delle economie alle velocità dei sistemi produttivi e questo tipo di cose allora non è certo colpa di Fanti se il padre di una trota fa il ministro però è importante ricordare il fatto che quest'idea della necessità di ristrutturare il modello nazionale in un modo diverso dal centralismo piemontese non è un'invenzione odierna non è neanche un'invenzione sbagliata il centralismo piemontese ha fatto una serie di scelte di guai molto divertenti perché sono portatori di un ideologismo molto diverso da cui siamo abituati ci sono dei dati molto belli che fa vedere Salvatore Lupo sul ritorno della malaria in Campania dopo l'unità perché i funzionari piemontesi non fanno più le bonifiche perché per un principio liberale perché io Stato dovrei bonificare la terra che è tua bonifica te la tu tu non te la bonifichi e torna la malaria con una ripaludizzazione molto pesante che finirà solo dopo il col fascismo allora in questo contesto di di divisione e mi sembra ci sono alcune cose che ormai tutto sommato quest'anno ha funzionato bene non l'avrei mai detto ci sono alcune cose che abbiamo credo capito tutti quanti queste funzioni di divisione accendono in maniera più forte che altrove nonostante ci siano anche altrove il contesto italiano perché questo è un contesto nel quale per ragioni tutte politiche il senso dello Stato è stato messo molto fra parentesi ai cattolici lo Stato non piaceva nonostante le dolci parole che ha scritto il sommo pontefice al presidente della repubblica il papa ha scomunicato gli elettori dei plebisciti gli elettori di Roma il re la corona il governo il seggio di Manzoni e tutto quello che ne conseguiva e non è stato molto forte perché alla fine le forze decisive della ricostruzione post bellica insieme a quelle cattoliche quelle del movimento operaio appartenevano alla cultura dell'internazionalismo non certo a quella del nazionalismo ed ovviamente forte perché il peso distruttivo del nazionalismo fascista sulla possibilità di costruire un patriottismo che non dovesse servire ai miti del regime ha reso quasi tabù un certo numero di concetti di parole soprattutto di esperienze e di conoscenze naturalmente tutto questo potrebbe essere eletto bisognerebbe averne però l'intelligenza e l'ironia con la cattiveria che usava Nino Andreatta e che è citata da uno dei saggi non mi ricordo quale quando diceva se si facesse la divisione fra il nord e il sud allora l'idea era molto più semplice sarebbe un grave disastro per il nord perché in realtà il nord è pigro vive di cose che ha già conquistato da tempo se il sud venisse abbandonato a se stesso in realtà conoscerebbe un moto di grande rinascita e il nord si troverebbe sottosviluppato rispetto a questo sud che riguadagna con una grande rincorsa il suo posto nella storia però al di là di questo e di questi aspetti se si vuole ironici il vero problema è quello di chi potrà tenere assieme come questo paese nel futuro perché l'unica cosa che è evidente è quella che non sarà possibile a nessun livello avere un ruolo e un peso né sul concerto europeo né sul contesto internazionale né in quello mediterraneo lasciando galappare all'infinito quelle che sono tendenze che dentro con grandi confusioni di linguaggio e di semantiche politiche vediamo popolare il nostro dibattito allora diceva qua invece siamo d'accordissimo diceva Lucio le cose che hanno tenuto a battesimo diciamo così l'Italia repubblicana sono state la Nato l'Europa la Chiesa io aggiungerei anche una discreta passione per la democrazia che era venuta a una generazione inaspettatamente diciamo anche quella passione per la democrazia è finita noi oggi vediamo che nel nostro contesto politico lo scambio fra esercizio dei diritti ed efficienza non tutti lo risolverebbero nel modo in cui è stato risolto per esempio gli equilibri scritti nella nostra Costituzione molti sarebbero disposti a cedere quote di democrazia in cambio di maggiore efficienza il porcellum la legge elettorale che determina la composizione della Camera Alta e della Camera Bassa di questa Repubblica è esattamente un sintomo della convinzione che quello è un tipo di scambio che a un certo punto è sembrato perfino accettabile allora io mi domando se le altre tre cose un ruolo lo possono lo possono avere e su questo mi colpiscono alcune alcune questioni le cito molto molto rapidamente perché ho finito i dieci minuti che mi ha dato Cigarini e sono già di venti secondi fuori per cui non voglio eccedere nella nella cosa e le nostre alleanze internazionali sono cose che domani potranno tenere insieme questo paese viene qualche dubbio se si vede la passività tutto sommato ingenua con la quale abbiamo creduto a quest'idea che facevamo una guerra in Libia che ancora una volta non si chiama guerra ma facevamo un'operazione di no fly zone nella quale però per caso dovremmo riuscire ad accoppare Gheddafi mentre volo da qualche parte viene qualche dubbio che quello sia un contesto che ci può tenere insieme il contesto europeo è un contesto che se lo guardate nel suo insieme nei suoi trend più recenti ha degli aspetti che non solo hanno quella carattere deludente che citava prima Lucio ma anche degli aspetti molto preoccupanti di ritorno di una cultura autoritaria razzista in paesi dove non ci se lo aspetterebbe ecco come si è visto nelle ultime elezioni dalla Finlandia alla Ungheria in modo particolare terza questione il contesto ecclesiastico che va sempre fornito bene o male degli elementi di collante alla nazione in momenti drammatici come erano stati sono convinto che in tre situazioni Caporetto l'8 settembre e la morte di Moro il cattolicismo romano ha giocato un peso decisivo nel tenere cucito il paese oggi è difficile pensare che questo possa accadere e questo ancora una volta un pizzico di amor di patria e questa volta di campanile e questo non è accaduto per ragioni generali ma è accaduto perché sia stata la scelta molto precisa di una lunga stagione di presidenza della CEI quella del carnale Ruini che ha pensato che distruggere le possibilità di una classe dirigente cattolica di assumere in proprio le mediazioni della politica fosse il massimo di bene che si poteva fare per il paese e per la chiesa e il risultato è quello che abbiamo sotto sotto gli occhi tutto ciò detto e finisco e rimane questa cosa che citava anche prima Lucio sulla quale bisogna riflettere poi alla fine questo è un paese dove basta che dimenticandosi che era stata una concessione del re ai Mazziniani l'adozione di quell'inno un po' sanguinario che è l'inno di Mameli basta che questa concessione del re a Mazziniani venga mormorata da Benigni in recto tono penitenziale a Sanremo e a tutti gli scappa la lacrimuccia che noi pensavamo fosse dovuta soltanto ai gol di Tardelli e questo vuol dire qualche cosa sul terreno che c'è ma va misurato anche questa cosa della lacrimuccia sul fatto che la lacrimuccia non viene non viene a qualche milione di italiani che non hanno il passaporto ma che lavorano in Italia vivono in Italia mangiano in Italia abitano in Italia per cui se non sono italiani loro saranno italiani i loro figli se non lo saranno i loro figli lo saranno i loro nipoti e ai quali non siamo in grado almeno mi pare di riuscire a trasmettere un senso forte non solo dell'identità dello Stato e di Nazione di questa divertente bufala che abbiamo il patrimonio culturale più grande del mondo mai stata in Grecia che abbiamo la più grande pittura del mondo questo tipo di retorica che alla fine riesce a essere una retorica assai poco inclusiva allora o si lavora su quello sui modi di fare inclusione diciamo così dentro un sentimento nazionale che deve avere al suo centro uno Stato e uno Stato democratico o se no i rischi non sono tanto quello che ci dividiamo fra il paese del Trote e quello del Branzino ma i rischi sono più generali perché in un paese che non sa stare insieme non è possibile crescita economica non è possibile crescita culturale non è possibile crescita civile grazie Melloni io vorrei a questo punto chiedere allo scrittore Pennacchi che ha scritto uno straordinario romanzo Canale Mussolini che diciamo così col quale si ritrova anche il piacere della lettura del racconto proprio della narrazione e che è narrazione di un pezzo di un'epopea popolare nazionale io vorrei chiedere a lui che paese è questo lui ne ha raccontato un pezzo l'ha raccontato in modo appassionato bello avvincente ma ora che idea ti sei fatto di questo paese e quale paese potrebbe essere diversamente l'Italia io non so se riuscirò a stare nei dieci minuti ma abbiamo un coordinatore che ha una bella faccia stalinista per cui se supero me lo dici e via stasera ho anche c'è anche un piccolo problema che per una serie di questioni logistiche Ivana non ha fatto il tempo a darmi le gocce di Lexodan prima di parlare per cui spero di riuscire a contenermi ma io c'è una brutta idea del paese poi se uno poco poco viene leggermente un po' sul depresso qua dentro e sente prima Lucio un po' di amanti esce fuori il primo fosso se ne dica una pita al collo e si butta di sotto la situazione si pare abbastanza abbastanza non è rosea non so io sto non mi pare una bella volevo dire innanzitutto che rispetto alle divisioni ho insistito perché venisse da Salso Maggiore Andrea Villani che è uno scrittore di Gialli di Nuare l'altra sera mi ha dato un'idea che io stupenda rispetto anche lui dice che sarebbe necessaria una secessione una divisione del paese ma non in nord-sud ma est-ovest perché la linea il discrimine vero è la torsale appenninica perché poi se uno ci pensa le migrazioni avvengono per via di piano e sul piano della cucina è vero è sostanziale la differenza insomma io anche se parlo latinese romanesco non sono non vengo dal Lazio ma mia mamma era veneto-ferrarese quindi io sto dall'altra parte voi capite bene che rispetto a voi che state noi siamo la ciltà voi siete i barbari perché voi per esempio ancora mangiate carne cruda la tartare la carne di cavallo macinata non ci sarebbe mai in mente insomma noi abbiamo i cappelletti i cappelletti i tortellini sono cose diverse quindi ci sono molte più affinità secondo me tra noi veneti e pugliesi che invece voi con i calabresi quindi quella è la divisione giusta l'asse longitudinale rispetto alle bonifiche a ruolo progressivo dei Borboni avrei qualche dubbio perché i Borboni bonificano le terre loro non è che è lo Stato che bonifica le terre private o dà le terre ai contadini i Borboni bonificano le terre loro mentre invece lo Stato Unitario lo Stato Unitario se lo pone fin da subito nel 1880 la legge Baccaglini lo Stato Unitario se lo pone il problema delle ok se saranno appena uniti nel 60 e sono 20 anni soli tu in 20 anni non sei riuscito a fare ancora la variante di Valigo o la Salerno Reggio Calabria quindi allora quando ragioniamo di storia facciamolo in maniera in termini comparativo non mi pare che i tempi nostri siano più veloci dei loro è studiato che il paese però l'Italia Unitaria il problema delle bonifiche se lo pone su larga scala a partire dagli anni 80 poi istanziano investimenti che è lo Stato poi le bonifiche debbano fare i privati se poi sono i privati del Sud che non le fanno e ne approfittano solo le grandi bonifiche ferraresi questo è un problema dei ceti imprenditoriali che ha ogni regione non è un problema dello Stato ma comunque in ogni caso la malaria il problema della malaria non verrà risolto dalle bonifiche perché anche le bonifiche fasciste non risolvono il problema della malaria la malaria lo risolve il DDT perché subito però soffregnacce queste a fin insomma che subito dopo il 44 quando c'è in Agro Pontino e nell'Agro dei Fondi c'è una recrudescenza malarica che è la fine del mondo io mi ricordo l'ultimo attacco di mio padre di malaria di mio padre nel 54 me lo ricordo perché io avevo 4 anni e me lo ricordo che ballava sopra il letto con la febbra il 41 d'agosto ma ha coperto dei coperti perché lui sudava quindi gli ultimi attacchi di malaria sono del 41 la malaria in Italia si risolve con gli stessi Dakota con cui gli americani ci avevano bombardato in Agro Pontino 4 anni prima con gli stessi Dakota ci errorano dappertutto di DDT che era appena stato inventato da loro non l'avevano mai testato lo testano e lo provano in Agro Pontino vedono che lì funziona che ammazza solo le zanzare non ci ammazza a noi e allora lo vanno a buttare su tutte le paludi americane loro oggi come sapete il DDT è proibito per legge in tutto il mondo perché si è verificato che non è biodegradabile è innocuo per l'uomo però non si è decomposito quindi ne hanno ritrovato tracce anche nel tessuto adiposo delle foche al polo nord e allora è proibito per legge saprete anche che ogni anno in Africa stanno 250.000 bambini che muoiono di malaria la malaria c'è ancora là per quanto mi riguarda saprete anche che ci sono vaste correnti di pensiero in questo paese anche nella sinistra o estremasinistra ma anche nel mondo cattolico che sostengono che le paludi in particolare le paludi le baunifiche in particolare le bonifiche delle paludi pontine siano state un ecocidio che ha ucciso un ecosistema perché c'era il diritto della della folaga della poiana della zanzara e quindi noi abbiamo modificato terribilmente prendo atto di tutto questo ripeto in agropontino nelle paludi pontine 700 km quadrati di terreno nei mesi estivi non ci avevano più di 20 persone su quei 700 km perché come c'entravi tutte morivi perché c'erano le varie forme di malaria c'erano quelle endemiche qui al nord ma c'erano quelle più più perniciose proprio la perniciosa la terzana eccetera che in 48 ore ti ammazzavano poi c'era una sabbia in mobili comunque per quanto mi riguarda lì ce ne erano 20 persone oggi ce ne erano quasi mezzo milione di persone per quanto mi riguarda io credo che quello che ha inventato il DDT bisognerebbe fare un monumento insomma qui entri invece quelli che parlano di ecocidio eccetera andrebbero chiusi nei vagoni piombati e spediti per la Siberia insomma perché tutti i diritti della folaga della boiana di quello che vado a voi ma anche il diritto dei miei figli di crescere in un altro paese ma ci sono perdere la malaria il problema però è quello dell'efficienza democrazia ed efficienza vedete in Agro Pontino in 4-5 anni fanno la bonifica durante il fascismo in 6 mesi costruiscono una città Latina Littoria nel giro di 5 anni ne costruiscono 5 Littoria Sabaudia Pontinia Pomezia Aprilia adesso sono 20 anni che noi abbiamo una strada che si chiama la 148 Pontina che collega Latina a Roma che è la seconda strada italiana per numero di mortalità che viene immediatamente dopo la Romea ma sono 20 anni che si discute il raddoppio e non si riesce a far non si riesce ancora a decidere qual è il tracciato perché c'è il comitato spontaneo De Borgo Giuda che dice no qui c'era viene a nidificare quel cucolo ecco io non vorrei dire i tempi della democrazia mi sembrano un po' troppo dilatati rispetto a quelli è vero che la dittatura ti va bene finché quello azzecca bene tu vai bene fanno le bonifiche poi azzeccano male fanno le leggi razziali le guerre e tu rimani fregato ma credo che una via de mezzo fra sei mesi per una città e vent'anni per costruire una strada si potrebbe anche trovare ma è veramente questo l'unico modo di essere democrazia cioè di essere inefficienti sono vent'anni che ci hanno promesso la variante De Valico la Salerno Reggio Calabria lasciamo perdere il punto di Messina ma sono vent'anni che ci hanno promesso anche per comprare una macchina usata non sarebbe più stato necessario fare un sacco di pratiche e queste cose questo però è il dramma Lucio queste non ce le aveva promesse solo Berlusconi queste ce le aveva promesse pure Prodi pure Prodi ci aveva parlato della variante De Valico sono passati vent'anni la variante De Valico non si è fatta la Salerno Reggio Calabria nemmeno non parliamo del ponte di Messina ma anche per comprare una macchina usata tu devi rivolgere all'agenzia eccetera sempre lo stesso numero numero di pratiche ecco io ho dei dubbi a ritenere a credere che io oggi stia in una democrazia perché poi quando vado a votare io su che voto voto su un listone unico non unico come era ai tempi del fascio ma su 4 5 listoni non di più dei decisi dai segretari del partito ho dei dubbi a ritenere che questa sia una democrazia per quanto mi riguarda a me mi sarebbe piaciuto a me piacerebbe ancora stare in una dittatura del proletariato posso rinunciare alla dittatura del proletariato perché voi mi hai detto no c'è l'economia del mercato la democrazia ma datemi una democrazia efficiente una democrazia vera se bisogna stare in una democrazia le democrazie come sono? sono quelle l'America o la Francia datemi la democrazia di quelle che funzioni non questa questa è improprio definirla una democrazia io non lo so dove stiamo qui stiamo in un paese assolutamente degradato allora Lucio in questi giorni nelle amministrative io credo che noi abbiamo assistito ad un fenomeno che in scienza delle costruzioni si chiama snervamento ovvero quando tu hai abbondantemente superato il sigma di sicurezza delle strutture prima di arrivare al sigma di rottura cioè quando c'è il spacca viene giù la trave tu hai la fase dello snervamento ti 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 fa così cadono i primi i sassetti e dopo viene giù tutta la trave io credo che oggi noi siamo in presenza di questa situazione di snervamento perché sta raccrollando un intero sistema che non è solo il sistema di regime berlusconiano ma se vediamo quello che è accaduto a Milano a Napoli eccetera io credo che stia venendo giù l'intero sistema dei partiti per come si è dato dal dopoguerra ad oggi perché ci sono tanti della mia parte che si illudono che caduto berlusconi e risolto il problema di berlusconi si è risolto tutto non serve a cambiare molto cambiamo solo i governi ed io ho la sensazione non è così perché è l'intero sistema che è arrivato che è quello della partitocrazia perché tu sai che c'era uno dei miei libri che si chiama Il fascio comunista che sembrava uno simoro però la fascio comunismo mettere insieme gli opposti però mi chiedo signori qui tutti si sostiene che le ideologie del novecento hanno fatto il loro tempo state superate il novecento le ha le ha condannate e sono d'accordo il novecento ha fatto fuori ha fatto giustizia delle ideologie totalitarie sia di destra che di sinistra perché anche per me che tutto sommato se dovessi scegliere io risceglierei ancora la dittatura del proletariato mi pare ovvio che arrivata la fine del novecento io direi l'esperimento è andato male volevo costruire il socialismo una società adeguale ma non si può fare con i gulag o reprimendo le libertà delle persone bisogna che ci inventiamo qualcos'altro ma il fatto che siano andate in pezzi quindi tramontate espulse l'esperimento è andato male rispetto alle ideologie totalitarie del novecento non significa che invece questo automaticamente comporti che le strada veredignum et justum est e libera il capitalismo no perché gli squilibri e le contraddizioni che portano al mondo sono arrivate anche queste io vorrei che la trovassimo un nuovo modo per costruirla una società adeguali ma per quanto mi riguarda per quanto riguarda il mio paese dividetemelo nord o sud est o west fate quello che vi pare ma a me così com'è non mi piace perché è un paese che negli ultimi vent'anni è ulteriormente peggiorato e degradato guardate signor io ci sono rimasto oggi venendo da Parma verso Reggio e riscontrando cazzo la crisi sta pure a Reggio perché se tu vieni da Parma a Reggio vedi un sacco dei stabilimenti industriali dismessi vedi anche dei cantieri nuovi ma stanno a fare i centri commerciali non le fabbriche e le attività produttive quindi è successo qualcosa di pesante nel nostro paese in questi venti anni è successo per esempio che le fabbriche si sono ridotte la classe operai i settori produttivi si sono ridotti qui la gente si allude veramente possiamo campare solo dei terziari dei centri commerciali le fabbriche si sono ridotte gli operai sono sempre di meno guadagnano sempre di meno e poi scusatemi perché io mi sento male tutte le volte che apro la Repubblica e che ogni tanto leggo oddio mori ciccia Prodi e mi sento male tocco ferro per cortesia Prodi no lasciatelo perde perché quando c'è stata l'euro tutto positivo tutto quello che volete voi la questione dell'euro sarà positiva vista dall'alto della presidenza della Lega Coop ma visto dal basso che uno che pia la busta paga per noi è stata un'ammazzata perché i nostri salari i redditi divisi con l'euro sono stati letteralmente dimezzati perché io andando a lavorare di notte eccetera arrivò a prendere 3 milioni al mese non sono 1500 euro 1500 euro sono un milione e mezzo da quella volta poi i commercianti le aziende ci sono rifatte ma i lavoratori a reddito fisso i pensionati l'entrata nell'euro ha corrisposto alla riduzione della metà dei salari reali e del potere d'acquisto così è andata ma dicevo oggi gli operai sono di meno le fabbriche sono di meno e gli operai sono più poveri di 20 anni fa 20 anni fa l'Italia era in quella Europa 25 era al quarto posto come incremento del PIL oggi stai al ventesimo 20 anni fa avevi i salari operai più alti d'Europa e ti dicevano i nostri costi di produzione il costo di lavoro è troppo alto oggi hai i salari operai sono tra i più bassi tu guadagni molto meno dell'operario inglese tedesco o francese ma questo ha comportato dall'altra parte un forte processo di accumulazione capitalistica quello che è stato sottratto dai salari è andato nella voce capitale ma non è stato reinvestito la nostra borghesia produttiva la prima cosa che ha fatto gli accumuli li hanno rigiocati sul piano dell'economia finanziaria dei pezzi di carta ma all'estero qui le fabbriche non sono state ricostruite rifatte la grande industria è scomparsa noi ci siamo ripetuti per anni che no la forza nostra era la piccola e media industria non la grande industria non ci serve erano le solite fesserie che ci raccontiamo per giustificare i nostri mali no non è così la grande industria ti serve ma la grande industria è diminuita nel nostro paese Tronchetti Provera ha smesso di fare i cavi ma si è messo a fare le finanziarie oltre che a comprare i giocatori per l'Inter eccetera così è andata l'unica grande industria che ti rimane oggi davvero nel paese rimane quello straccio di Fiat che ti è rimasto allora i salari si sono ridotti a fronte di una società che non è per niente cresciuta ma che è sempre più ingessata qui c'è la mobilità sociale che è zero l'ascensore sociale è zero vent'anni fa l'operaio italiano era ancora in grado perché mi ricordo nel 78 io guadagnavo 400 mila lire al mese Ivana riusciva a tirare fuori ogni mese 70-80 mila lire per mettere a parte per comprare materiali per la casa oggi prova a vedere se un operaio che guadagna mediamente 1.300 euro riesce a mettere se no non ci paga neanche l'affitto vent'anni fa l'operaio riusciva ancora a mandare il figlio all'università vedi un po' se riesce a farlo oggi al punto che il ministro del lavoro Sacconi ex socialista a lui ha sostenuto dice che li illudiamo a fare questi giovani che li mandiamo a fare all'università a farli studiare se poi il lavoro non c'è è giusto che chi ha l'intelligenza nelle mani vada a fare le scuole tecniche supportata poi anche dalla figlia le craxi e da tanti altri ora a parte il fatto di essere curioso di sapere se i figli dei Sacconi poi lui i figli suoi li ha mandati all'ente scuola della cassa di imparare a fare il carpintiere il muratore o li ha mandati alla Bocconi ma resta evidente che chi deve andare a far imparare al tornatore sono sempre i figli miei i figli della cassa operaio perché il paese in cui stiamo oggi è il paese ancora più bloccato di vent'anni prima non sono slogan ma è la verità il notaio lo fa solo il figlio del notaio il professore universitario ricercatore lo può fare solo il professore universitario ricercatore o quantomeno solo uno che abbia dietro una famiglia che è in grado di sostenerlo fino a 45 anni che lui vada a fare il portaborse appresso al barone gratis un operaio no e quindi il figlio dell'operaio ma voi sentite anche anche i giornalisti guardate i televisivi ma anche nello stesso scelto politico anche all'interno del PD ma anche alla FIOM per esempio tu riesci a diventare segretario generale della FIOM solo se sei da Reggio Emilia se siete in un'altra città no avete rotto i coglioni tutti quanti come si vuole dire allora e c'hai ragione tu permetti che poi un operaio dell'altra parte si incazza alla fine allora c'è un blocco che va ridata agilità quantomeno la prima cosa mi deve garantire una democrazia occidentale solo l'uguaglianza delle condizioni di partenza sulla scuola pubblica su queste cose qua e sui liberi accessi la possibilità di andare e venire dell'intelligenza perché questa situazione la costruzione di una casta che amici compagni o quello che vi farò a voi la casta non riguarda solo gli altri la guasta vi riguarda tutti con quel piccolo ristretto oceto del gruppo che sta lì lì sopra perché anche il PD doveva essere il PD il grande partito no se si diventano solo di essere Margherita quando ci hanno provato gli atti a presentarsi alle primarie fossero di piedi o di un esaltare o fosse pure Beppe Chillo gli avete detto no la pretesa sempre di essi autoreferenti e il terrore mio è che alla fine della caduta del reggine Berlusconiano voi ve ne riusciate ancora con le autoreferenze vostre ma ci pensiamo noi e sistemare come dice pensando di sostituire semplicemente le piccole chiese vostre e nostre alle piccole chiese loro ma non è così è questa la crisi che ha determinato il paese che ha determinato la crisi e questa è la crisi perché quando Bersami dice che noi abbiamo la costituzione più bella del mondo scusate compagni dice una cazzata perché una costituzione non si misura dall'articolo 1 dai valori ah lo so pure io che la democrazia e la repubblica ha presentato no perché sul piano dei principi pure la Corea del Nord avrà una costituzione che è la fine del mondo o che voi pensate che nella costituzione della Corea del Nord c'è scritto noi agli individui che dobbiamo fare tutti un culo così no se una democrazia allora la qualità di una costituzione è determinata dalla capacità delle forme e procedure che mette in campo per realizzare quei principi allora se ci riesce è buona se non ci riesce buttala e cambiala e allora la realtà è che quella costituzione repubblicana fatta partendo da quei dati eccetera eccetera arriva subito dopo la guerra con il vizio grosso e arriva immediatamente dopo il fascismo in cui tu dopo vent'anni di scottatura della dittatura il più grosso problema che avevi era quello di evitare l'accentramento del potere nell'esecutivo se v'ho stufato tottaglio che che è io direi stabilisticamente di eh ho capito tu hai e allora riparlo dopo eventualmente però o tu ricostruisci una nuova nella prima repubblica tu avevi l'esecutivo che era ostaggio del Parlamento in questa degenerazione berlusconiana tu hai avuto il Parlamento ostaggio dell'esecutivo in realtà adesso siamo tutti tutta la realtà italiana è ancora però ostaggio di quei vecchi partiti i partiti nati nel novecento ma una volta tu mi hai detto che sono finite le ideologie del novecento che erano quelle che tenevano uniti i partiti se quelle ideologie non ci stanno più mi spieghi da che sono tenuti uniti oggi i partiti se non esclusivamente da logiche del potere allora bisogna riliberare tutto il gioco costruire una nuova democrazia che sia anche efficiente e sia in grado alle strade di farle se non in sei mesi massimo in sei anni non in quindici e quindi che se faccia alla francese con un potere dell'esecutivo forte che è tutto direttamente dal popolo è un Parlamento eletto in maniera disgiunta cioè che lo controlla e su base uninominale i partiti possono pure restare ma come centro di costruzione di idee ma sulla base uninominale e ci si confronti sulle questioni reali sbloccando assolutamente le incrostazioni del potere dei partiti sulla realtà perché ragazzi quando un paese quando in un paese pure il primario di chirurgia lo decide la politica beh c'è qualcosa che non funziona perché a San Raffaele di Milano tu non vai a far chirurgo se non sei del Comune di Liberazione ma io sono convintissimo che pure all'ospedale del Reggio Emilia il primario di cartochirurgia lo decide la politica e non può essere ho finito ecco allora è un intervento che ha messo insieme tantissime cose pure voi però no 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 ha messo insieme tantissime cose su cui si può convenire su cui si può non convenire è sicuramente diciamo così un intervento ricco di spunti su una cosa ti posso garantire che possiamo trovare un punto di collegamento anche noi abbiamo i caplet non abbiamo i tortellini sono migliori infatti comunque pronti a fare le sfide sempre pronti per unire in questo caso per unire sindaco abbiamo sentito diciamo così una riflessione amara sul paese una riflessione amara sui partiti e sul e sul ruolo che possono avere nel costruire un processo di crescita del paese una riflessione sul rapporto democrazia ed efficienza un tuo parere un tuo commento sì intanto devo tranquillizzare Pennacchi perché i regimini e i primari non vengono scelti dalla politica ma non se mi vado a informarlo è un punto d'onore informati è un punto d'onore che ci facciamo siccome come dire su una cosa come dire non possiamo discutere troppo perché è un altro argomento ma però sono d'accordo con lui quando dice questa è una delle malattie di questo paese perché a 200 chilometri di distanza io ho fatto il presidente della commissione sanità in regione e questo è stato un punto di grande contrasto spesso con alcuni miei colleghi politici non capisco perché a 200 chilometri di distanza passando le Alpi i primari non li decidano le loro appartenenze politiche non penso che a voi interessi che il primario di Reggio Emilia sia di centro-sinistra anche se noi abbiamo una tradizione vi interessa che vi curi bene immagino e quindi questo però a me serve per dire una cosa che è una cosa molto importante io credo che io ho lavorato molto all'estero da ricercatore universitario e sono una delle vittime di questo sistema malato nel senso che nel mio concorso a cattedra mi ha sopravanzato una mia allieva che aveva fatto la tesi con me e che era figlia di un primario quindi io sono una delle vittime e quindi parlo a ragione però sono una delle persone che pensa che avendo vissuto molto all'estero che sia una cosa insopportabile che gli italiani parlino sempre male del loro paese in qualsiasi altro paese europeo voi non troverete mai questa attitudine a parlare male del proprio paese come in Italia è un'abitudine che io non capisco probabilmente e uno questo volume ci aiuta anche un pochino a ragionare di questo e questo mi serve perché Ildo mi ha invitato io non sapevo perché dovevo venire insomma però mi ha invitato non sono ne uno storico come sapete eccetera eccetera però credo che quando noi abbiamo deciso di fare del 7 gennaio come dire l'invito al Presidente della Repubblica eccetera eccetera noi abbiamo avuto sempre un'idea è una scommessa che allora hanno fatto poche città cioè ha fatto Reggio Emilia ha fatto Torino e poche altre prima all'inizio ma la scommessa è sostanzialmente questa e cerco di stare sull'argomento di stasera cioè noi in questo paese ha bisogno di segni e di simboli cioè si può dire che c'è come dire la variabilità la creatività che la società è una data più fluida più liquida eccetera ma le persone normali sanno che tutti noi abbiamo bisogno di riti abbiamo bisogno di celebrazioni perché un paese sta unito anche se ha delle celebrazioni dei riti collettivi che consuma allora un grave errore anche della sinistra è stata quella di non ragionare a sufficienza su questo tema il tema della bandiera dei valori legati alla bandiera della patria intesa come la direbbe Simone Weil non come quella che combatte gli altri ma la patria come la casa dei padri quella che costruisce le condizioni per la tua vita migliore per te e la tua famiglia questo amore questo simbolo noi ne abbiamo trovato nel paese un bisogno enorme enorme e questo è il motivo per cui la Lega oggi è sconfitta perché non è stata col paese è stata con una minoranza del paese questo paese ha bisogno di questi simboli ha bisogno di patriottismo costituzionale non ha bisogno di discutere che la nostra costituzione sia da buttare via perché non si fa l'autostrada non si fa l'autostrada perché come dice il ministro degli esteri turco che giustamente Caraccio lo cita nella sua cosa perché in questo paese manca la pianificazione strategica cioè manca la capacità di discutere non solo delle cose generali oddio come siamo cattivi la classe politica cioè il problema di questo paese è la classe politica pensate davvero che sia così? pensate che io non ricevo da parte di tutti i cittadini dal più piccolo al più grande raccomandazioni per i propri parenti? pensate che non sia così? pensate che sia solo la classe politica che mi raccomanda gli amici? guardatevi intorno fatevi un esame di coscienza allora questo paese ha bisogno di occuparsi anche dei processi concreti delle cose concrete io credo per esempio che l'alta velocità facciamo un esempio che tutti noi usiamo sia una delle cose dei grandi salti di qualità di questo paese l'alta velocità funziona funziona bene collega le città italiane si potenzierà è un simbolo di modernità e di identità che il paese su cui il paese può ragionare ed è evidente che noi stiamo perdendo occasioni nel momento in cui non abbiamo è vero qui c'è un deficit di volontà politica appunto per usare sempre l'equazione del ministro degli esteri turco nel momento in cui giustamente noi ci occupiamo di dare le pacche sulle spalle o di fare una politica estera incerta è evidente che potevamo benissimo dire che la nostra vocazione anche naturalmente era sul Mediterraneo sui conflitti del Mediterraneo ritagliarci un ruolo avere un certo fisico tutti voi vi ricordate il fisico che mise in campo Craxi sono anche attorno a questi episodi che si costruisce l'orgoglio di un paese il senso di sentirsi quando tu invece di giorno in giorno cambi la politica estera eccetera eccetera io non credo che la Merkel sia un grandissimo statista però almeno la Germania come sistema ha scelto una sua collocazione ha scelto di sviluppare un certo tipo di economia predisposta all'export ha ragionato come sistema con i paesi emergenti ha occupato l'est europeo facendo una grande scommessa di volontà politica perché quando Col punta alla riunificazione adesso qui Caraccio dopo mi dirà in orecchio che ha detto mucchio di cazzate però quando Col punta alla riunificazione è chiaro che fa una scommessa di volontà politica fa un grande rischio allora è evidente che un paese si costruisce intorno a grandi rischi per esempio il fatto che la classe politica che la classe dirigente non abbia secondato le smagne secessioniste della Lega è stato un rischio perché è indiscutibile che noi abbiamo una parte di questo paese al sud che è in mano a delle dinamiche totalmente altre rispetto a quella del nord quindi secondo me le condizioni nel popolo ci sono molte se non tutte la capacità di mettere insieme queste condizioni dipende moltissimo anche da quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo e da quello che uno di noi crede anche nel suo piccolo però certamente la politica è richiesta un atteggiamento coraggioso la questione dell'immigrazione se voi avete quando abbiamo seguito i mondiali di calcio c'era quel bellissimo spot della nazionale tedesca che era giovane vincente dinamica lo spot della nazionale tedesca con le mamme dei calciatori uno turco uno di non so dove marocchino eccetera un altro che veniva dall'est polacco le mamme dei calciatori che guardavano ognuno vestita nei loro costumi la partita insieme questo è un segnale può piacere o non piacere può essere bello o non essere bello però è un segno chiaro che dice che la tua identità è fatta anche con quelli come diceva prima Alberto Melloni che vivono nel tuo paese da un tot di anni eccetera eccetera allora tu costruisci l'immagine di un paese il senso di un paese anche intorno a queste cose gli Stati Uniti sono un paese che ha un fortissimo senso di identità ma che è anche visto nella sua identità come dire la sua identità arricchita dalla provenienza di altri ha fatto sentire altri parte di quell'identità e cantano tutti l'ino nazionale perché si sono sentiti dentro il recinto diciamo così è chiaro che se tu coniughi l'identità in maniera tribale come fa la Lega o in maniera etnica è evidente che cioè non hai delle chance di avere delle grandi prospettive visionarie poi guardate errori come quello che è stato commesso sulla riforma della pubblica amministrazione per esempio sono errori che si pagano a lungo se tu vai all'estero a lavorare per esempio nei Stati Uniti nei centri di ricerca dei Stati Uniti ci sono centri di ricerca pubblici e centri di ricerca privati cioè legati alle case farmaceutiche alle multinazionali allora nei centri di ricerca privati tu guadagni il triplo che nei centri di ricerca pubblici però quando tu sei un ricercatore di un pezzo dell'NIH del sistema nazionale di ricerca tu hai l'orgoglio di essere parte di quel sistema ti senti di fare un servizio pubblico e ne sei orgoglioso è un po' come quando i nostri tranvieri portavano la divisa no? cioè la divisa voleva dire io faccio un servizio pubblico sono al servizio dello Stato ho rispetto di questa cosa sono un ferroviere dello Stato sono un tranviero dello Stato sono un dipendente dello Stato nel momento in cui tu fai una riforma pubblica amministrazione dicendo che sono per guadagnare qualche titolo sul giornale e la classifica di popolarità per due mesi perché dopo crolli in cui dici sono tutti fanulloni sono tutti fanulloni tu non crei il senso dello Stato tu non crei il senso dell'identità nazionale non fai andare avanti il Paese così dovrai punire quelli che non vanno bene ma invece che concentrarti sulla denigrazione concentrati su dare orgoglio al loro lavoro il senso del loro lavoro e punisci e occupati della valutazione degli effetti delle politiche che fa ognuno e che ognuno si assuma la sua responsabilità perché in questo Paese tutti si lamentano tutti parlano di diritti pochi parlano di responsabilità e a volte se le pubbliche amministrazioni non funzionano dipende dalle responsabilità anche individuali e dalle sciatterie anche individuali dalle sciatterie individuali e quindi questo è un elemento su cui dovremmo più riflettere e non riguarda solo la classe politica credo riguarda un po' tutti però se noi avessimo il coraggio di dire che dopo 5 anni che sei in Italia sei italiano e cantilinno e a Reggio Emilia io ho notato un grande senso di appartenenza di queste persone quando vengono invitate a ritirare la Costituzione che hanno trovato lavoro qua queste persone che vengono da un Paese senza lavoro e trovano lavoro qua e riescono a dare panno a loro famiglie e farli studiare non ci vuole mica molto essere vostri alleati a costruire un senso del Paese non ci vuole mica molto anzi è semplicissimo basta volerlo e basta non avere delle paure basta volontà politica pianificazione e appunto la capacità di avere una mentalità aperta e capace di capire che l'identità si costruisce di volta in volta e non solamente su appunto dei fatti statici etnici o genetici e così via quindi credo che questa riflessione sia molto utile e che sia anche però uno stimolo a vedere un po' le cose in maniera diversa cioè stiamo attenti c'è una gran parte di questo Paese che si sveglia la mattina fa bene il suo dovere e vuole regole certe e vuole che come dire e vuole contribuire in maniera positiva positiva stiamo attenti che questa parte continuamente non si sente a descrivere una via senza speranza un Paese senza idee una prospettiva senza futuro perché se continuiamo a descrivere così demotiveremo anche loro io credo che la storia del 7 gennaio abbia insegnato questo che c'è anche un Paese che crede in certi simboli che ha bisogno di una certa identità che si riconosce in questa cosa che ogni tanto ha bisogno di qualcuno che gli indichi in maniera un po' più chiara un po' più semplice la via da prendere ma che però è già su quella via non c'è per forza bisogno di un capo la democrazia è più che sufficiente per questo anzi tanto più si diffondono valori comuni e condivisi tanto meno abbiamo bisogno di capi grazie il cuore dell'intervento del sindaco del rio è diciamo così un invito a valutare anche le grandi potenzialità che la nostra società la nostra gente può esprimere quindi in qualche modo l'affermazione è che il futuro è nelle nostre mani io credo a questa cosa profondamente che il futuro possa essere nelle nostre mani sono un cooperatore e guai a noi se non pensassimo che nelle nostre mani c'è anche la possibilità di costruire qualcosa di nuovo e di diverso e quindi che il futuro è nelle nostre mani ed è per questo che chiedo a Giuliano se sbaglio io oppure se ha un senso dire che il futuro è nelle nostre mani ma io sono ovviamente convinto che sia nelle nostre mani la faccenda però non è per nulla semplice non è per nulla semplice perché noi abbiamo contemporaneamente queste due questioni davanti cioè che in un lungo periodo storico e io mi riferisco peraltro anche ad una parte finale ma finale non vuol dire di due anni finale vuol dire di decine d'anni questo paese è sostanzialmente diventato più ingiusto e questo è un punto di partenza secondo me perché se noi non partiamo dal considerare e dall'ammettere che questo paese è più ingiusto non capiamo ciò che ci sta capitando perché è diventato più ingiusto per una serie di conseguenze e di ragioni ma anche perché è vero noi un problema di ordine di democrazia di funzionamento delle istituzioni di regole praticate della vita democratica questo paese ce l'ha quindi credo che questa discussione bisognerebbe provare a farla togliendola dall'ambito del se parli di queste questioni sei il nemico della democrazia se parli di queste questioni ti stai cercando di tenere insieme lo strumento col risultato è complicato perché quando noi facciamo questa discussione tendiamo un po' ad avere un pendolo da una parte il massimo della tra virgolette denuncia le cose che non vanno eccetera che sappiamo tutti e dall'altra parte una sorta di preoccupazione che la denuncia diventi denigrazione diventi demotivazione diventi la via per la quale alla fine non riusciamo poi più a fare le cose e io sono convinto che sia effettivamente così cioè noi oggi siamo dentro questo grande dilemma da questo punto di vista allora si propone un altro pezzo del problema in tutta questa discussione tra siamo diventati e più in generale c'è stato un aumento della tra virgolette ingiustizia e ineguaglianza il ruolo e il peso della politica c'è un altro pezzo del quale dobbiamo ragionare di più che è come la società e gli interessi si organizzano perché noi un simpatico residuo del novecento ce l'abbiamo noi abbiamo CGL CISLUIL più del resto poi abbiamo CONFA agricoltura col diretti CIA poi abbiamo CONF Artigianato Casa Artigiani poi abbiamo la Lega delle Cooperative la CONF Cooperative la GC e un po' di altre robine e avanti di questo passo giù per l'Irami ad avere tre associazioni di calciatori tre associazioni di ingegneri tre associazioni tre di tutto allora se all'inizio del novecento tre di tutto andava bene oppure era figlio e condizione di un contesto i grandi filoni culturali i grandi filoni ideali ma il giorno in cui abbiamo detto fine delle ideologie intanto bisognerebbe prenderci cinque minuti per ragionarlo su questo fine delle ideologie perché abbiamo detto fine delle ideologie e abbiamo capito fine delle idee e a me pare una questione un po' diversa ad esempio io sono uno e parlo a titolo assolutamente personale io considero che questo paese ha una gravissima carenza di pensiero rispetto a un'idea di società io vorrei potermi confrontare con delle idee di società che non è detto che diventino dei modelli o che diventino come posso dire delle sovrastrutture che costringono la libertà degli individui eccetera eccetera però un qualche cavolo di idea del dove andare è indispensabile altrimenti diventa tutta quando va male bassa macelleria quando va bene come posso dire gestione col senso del buon padre di famiglia allora tra il buon padre di famiglia e la bassa macelleria secondo me non ce la facciamo a venire fuori da questa condizione avremmo bisogno di qualche cosa in più e il qualche cosa in più secondo me è un confronto su un'idea di società e allora un confronto su un'idea di società ha al fondo la cosa da cui sono partito e cioè il senso della giustizia e da questo punto di vista anche le logiche dell'economia perché si è affermata un'idea secondo me indimostrabile platealmente indimostrabile secondo cui solo una società profondamente ingiusta è una società che è in grado di crescere e svilupparsi a me pare una cavolata fuori di misura io sono responsabile e faccio tutte le volte che posso autocritiche perché non mi sono alzato in piedi incazzato tutte le volte che ho sentito dire che la finalità dell'impresa è produrre valore per l'azionista che era una testimonianza della serie e voi tutti poletti in test siete una massa di test e di manzo che tu sia un lavoratore che tu sia un cittadino che tu sia uno che abita lì che partecipi di quella comunità non conti un cavolo di niente della serie allora caro il mio imprenditore mo ti chiudi il rubinetto perché l'area che usi sarebbe la nostra e l'area che usi sarebbe la nostra e i trasporti pubblici che porti in giro la tua gente sarebbero i nostri e la cultura e la conoscenza delle persone che vengono a lavorare da te sarebbero i nostri allora siccome tu dici che l'unica cosa che devi fare è creare valore per l'azionista io tutta quella roba lì a te per creare valore per l'azionista non te la do e poi adesso facciamo un contratto e vediamo cosa mi dai indietro per le cose che ti do risposta ti do un posto di lavoro perfetto poi viene un giorno e il signor Rossi decide che chiude la baracca e fa un'operazione che per estrarre il valore dall'impresa perché ce la raccontavano così la vende a un fondo americano tedesco inglese o italiano il quale fondo prende l'azienda e decide che la smonta il marchio lo dà agli spagnoli le macchine usate ai rumeni i disoccupati alla cassa integrazione italiana cioè la società italiana se si incazza ha ragione secondo me sì questa vicenda non ci ripropone un tema che è la proprietà chiusa questa parentesi allora io credo che bisogna che proviamo a pensare a queste cose ci serve un altro po' di pensiero c'è bisogno di ragionare su queste robe c'è bisogno dall'altro lato di fare in modo che la società cioè gli indietro individui che si organizzano e i loro interessi trovino delle forme e delle sedi dove le loro opinioni da una parte e i loro interessi dall'altra parte trovino il modo di esprimersi di confrontarsi e di valere democraticamente da questo punto di vista secondo me le caste ci sono e sono tante perché se ci sono tre associazioni cooperative oggi la ragione non sta nei fondamentali per cui i cooperatori non ne hanno bisogno di tre associazioni ne avrebbero bisogno di una che facesse il triplo delle cose questo magari sì o costasse un terzo ma è di lì che dobbiamo andare è di lì che dobbiamo andare è di lì che bisogna cercare di costruirsi la forza per riaprire una riflessione sul fatto che non abbiamo girato la pagina del secolo poi per qualcuno è cambiato qualcosa e qualcun altro continua bello come pria si direbbe a fare la sua simpatica strada e bisognerà decidere che quelle cose lì con quelle cose lì facciamo tutti i conti e smontiamo pezzo per pezzo quelle parti che oggi non hanno una ragione di esistere e le ricostruiamo in un'altra maniera questo vuol dire e la chiudo lì che anche il rapporto tra il cittadino e il pubblico l'interesse collettivo il bene comune cambia drasticamente l'idea secondo cui io amministro una comunità in forza del voto perché Silvio Berlusconi se volete ha la simpatica tra virgolette fatemi usare la parola arroganza di usarlo spregiudicatamente questo ragionamento siccome mi hanno votato io faccio quello che reputo giusto punto ma il siccome mi hanno votato non è che lo pensa solo Silvio Berlusconi anche Poletti l'hanno votato e ogni tanto il dubbio che quelli che gli dicono una cosa di traverso è gente che va messa tra parentesi beh ce l'ho d'altra parte se mi hanno votato sarò stato il meglio se sono il meglio le mie idee saranno quelle giuste e loro che cosa cavolo vogliono tutti questi qua quindi scendiamo per i rami e arriviamo lì io credo che esista un problema da questo punto di vista nella relazione tra il cittadino e lo Stato nelle sue diverse forme e io sono convinto anch'io che l'Italia non ha il problema di non essere una nazione è un paese che fatica terrificantemente a ritrovarsi in uno Stato cioè in una forma che organizza la sua democrazia ne gestisce e amministra gli interessi in maniera comune condivisa trasparente percepibile percepita io credo che questo sia il problema che abbiamo davanti per cui dobbiamo immaginare che anche le forme migliori che abbiamo vissuto dobbiamo avere il coraggio di immaginarne delle altre io dentro questo uso una parolina semplice che definisco secondo me ci vuole un nuovo protagonismo sociale noi abbiamo bisogno di ricostruire dei meccanismi che consentano al cittadino di entrare in presa diretta più immediata più chiara più trasparente con le decisioni che lo riguardano e credo se sarà possibile ne venga coinvolto e divenga attore guadagnando perdendo o rischiando rischiando guadagnando o perdendo in ragione delle scelte che si fanno quindi se smettiamo di pensare che l'unico modo di tenere in relazione un cittadino con l'interesse collettivo è mi dai le tasse ti do i servizi e cominciamo a pensare che la relazione è c'è una roba da fare lo decidiamo insieme la facciamo la facciamo insieme rischiamo insieme se ci azzecchiamo ci guadagniamo tutti e due se ci perdiamo ci perdiamo tutti e due allora il senso civico da predicato potrà diventare un senso civico praticato perché altrimenti ci sarà sempre qualcuno che fa la predica e qualcuno che l'ascolta e in questa ripartizione dei compiti sappiamo sempre chi è che la fa e chi è che l'ascolta quindi io credo che ci sia bisogno di lavorare di riflettere perché questo secondo me è l'unica maniera che abbiamo per non cedere tra virgolette all'idea che siccome ci sono tante cose che non vanno uno alla fine allarga le braccia e dice ma rendo non c'è niente da fare e quando uno si arrende cosa fa oggi si chiude in casa alza dei muri si divide da tutti gli altri fa vincere le paure io credo che questo sia il tema che abbiamo di fronte entrarci dentro metterci in relazione con queste questioni affrontarle significa dare canali nuovi alla partecipazione alla responsabilità alla democrazia al senso del volerci essere da parte dei cittadini e quindi anche a trasformare lo Stato trasformare quindi conseguentemente le forme della nostra democrazia io credo che questo sia il terreno di lavoro per il futuro perché se ci diamo un terreno di questo tipo forse un passo avanti all'Italia dopo l'Italia riusciamo in qualche modo a come posso dire a costruirla un'idea e io credo che sia giusto farlo ora gli argomenti messi sul tavolo sono tanti stimolanti e bisognerebbe avere il doppio del tempo che abbiamo a disposizione per poter diciamo così in modo corretto poter fare altri ragionamenti io purtroppo devo dirvi che il nostro tempo finisce con le 7.30 e quindi caro Antonio la democrazia è davvero un difficile elemento è una cosa complicata una cosa complicata e quindi proviamo a fare un esercizio democratico pur nella sua complicazione di questo tipo alcune battute però poche battute in modo tale che tutti quanti possiamo salutare le persone che gentilmente sono venute a questo incontro con una riflessione breve io partirei da te non vorrei andarmene da Reggio racconto breve più spaventato di come ci sono venuto però voglio forse non sappiamo i miei libri non fanno altro che parlare di gente che salza la mattina che va a lavorare il mio mestiere è quello oggi di scrivere e raccontare storie cioè che è esattamente quello di costruire miti e simboli ma fino al 1999 io sono uno che per 30 anni è tornato a casa tutte le mattine alle 6 perché si è fatto 30 anni di fabbrica a turni di notte e i miei libri raccontano queste storie qua le storie della gente per bene che salza la mattina che va a lavorare il mio mestiere è quello di costruire miti e simboli ma è anche e per questo evidentemente quello di provare a ragionare quando vado all'estero quindi giorni fa eravamo in Canada e mi chiedono i giudizi su Berlusconi io rispondo sempre di Berlusconi parlo male a casa mia lei pensi al primo ministro suo qui ma quando vengo a Reggio Emilia no non mi aspetto che mi si dica e no tu non devi parlare male dell'Italia il mio modo di costruire i simboli il mio modo di stare al servizio dei miei compagni di lavoro della gente per cui scrivo è quello di denunciare le cose che vedo perché il mio modo è questo non mi si può rispondere facciamo i simboli e non rendersi conto che c'è un problema di forme e di istituzioni perché caro sindaco prima dei simboli prima dei significati significati prima dei significati vengono i significati qui c'è un problema di forme e di procedure dal quinto secolo avanti Cristo il problema della democrazia d'Atene è quello di forme e procedure sono le forme e procedure che sono arrivate in Italia è questa che è bloccata è bloccata la forma della democrazia della rappresentanza e della mobilità sociale significa che questo paese l'azienda di questo paese le uniche fonti di creatività e di intelligenza a cui fa riferimento sono quelli dei ceti alti della punta della piramide sociale è l'intelligenza e la creatività delle classi subalterne non si fa più riferimento e la risposta non può continuare ad essere non vi preoccupate ci pensa al partito perché il partito quel partito là il partito guida è finito no Pennacchi però io non ti impedisco di parlare male di Berlusconi figuriamoci assolutamente anzi è lo sport di Berlusconi no voglio parlare male pure di Beltroni io assolutamente sono contento se parli male di tutta la classe politica il ragionamento che io ho fatto non è personale il ragionamento che io ho fatto è politico cioè questo paese ha bisogno di ragionare in maniera più seria di come e perché le cose non funzionano cioè se tu prendi un politico che dice la mia legge fa schifo in qualsiasi altro paese del mondo questo politico va a casa giusto? quindi abbiamo bisogno di parlare di più delle piccole cose che non funzionano le piccole cose sono il fatto che in questo paese non c'è una rispondenza per esempio tra alcuni comportamenti personali pubblici eccetera che comportano in tutti gli altri paesi d'Europa le dimissioni immediate dai ruoli pubblici facciamo un esempio abbiamo avuto ministri inglesi che sono dimessi perché si sono dimenticati di dare la notula del ristorante e poi noi abbiamo quello che abbiamo quindi non è che dobbiamo star qui a raccontarci che queste cose succedono lo sappiamo che succedono ma come bisogna impedire che continuino a succedere questo è il problema della politica e di mettere in campo i meccanismi perché impedire che succedano io sono stato a Palermo voglio raccontare questo episodio ho incontrato un signore molto perbene che mi dice in atto quanti dipendenti avete voi quante persone servite l'agenzia d'ambito che fa i servizi idrici allora i rifiuti eccetera quanti dipendenti avete voi io dico uno abbiamo un dipendente per un'agenzia che serve 450 mila abitanti loro per la stessa agenzia che serve 300 mila abitanti avevano 400 dipendenti ora proviamo a capire perché succedono queste cose ragioniamo dei meccanismi con cui succedono questo è il mio ragionamento la pubblica amministrazione si riforma pezzo per pezzo andando a vedere perché il mio anagrafe può dare una risposta in tre ore e l'anagrafe di Caltanisetta la deve dare in tre giorni io voglio sapere perché e quello non è colpa di Berlusconi se permettete ci sono dei processi su cui bisogna agire dal basso perché è dal basso che si migliorano le situazioni anche poi io posso parlare di Berlusconi se volete quindi non è un problema appunto io però vorrei dire tutta questa discussione cioè in questi ultimi vent'anni io sono un economista voglio dire cioè c'è stata una ridistribuzione del reddito dagli salari e dal reddito lavorato di 12 punti percentuali c'è un grafico dell'Oxeli che lo presentisce esattamente voglio dire poi Pennacchi parla di appunto della vita cioè io ritrodurrei un termine che si chiama la lotta di classe l'hanno fatta quegli altri noi abbiamo rinunciato perché non abbiamo più dell'Ugiro non abbiamo più niente ma quegli altri l'hanno fatta e poi abbiamo fatto dieci anni di spagnazione non desniviana di Berlusconi ma Berlusconiani parte di crescita al medio degli ultimi dieci anni zero o sotto zero dopo la crisi in cui abbiamo perso circa 8 punti di più quindi noi se cresciamo con un per cento all'anno se va bene perché questo se va bene riungeremo il livello del reddito nel 2016 no? allora qui noi possiamo discutere tutte le cose di cui abbiamo discusso ma se non abbiamo presente questo quadro è un po' tutto inutile tutto questo no? perché noi siamo costretti parlo anche nel confronto di quello che mi ha detto in precedenza cooperative se il tasso di crescita è l'un per cento questo paese è finito e ha chiuso quindi la gioventù l'alta velocità che cavolo adesso siccome l'Unione Europea ci chiederà e la banca 40 miliardi chiederà voglio dire adesso io voglio vedere cosa succede con 40 miliardi di taglio di spesa pubblica quindi cioè è questo al di là che se la Grecia parte non parte se il debito questo sarebbe un corno molto divertente no voglio dire quindi questi sono i parametri dell'equazione e se non si considerano questi parametri l'utile può stare a discutere di tutte queste belle cosette perché non si riforma nella pubblica io sono d'accordo che dovremmo avere dei funzionari pubblici alla tedesca o la Repubblica França Est o però non ce li abbiamo soprattutto la gente si bisogna riformare e cerca cent'anni ci troviamo ma il conale all'università in realtà pure Luigi Berlinguer il titolo quinto della costruzione l'ha cambiato Bassanini se c'è la recensione oggi la regione Lazio può fare politica estera e ma dà una delegazione di 20 persone a non fancazza a Montreal questo è partito dalla legge Bassanini io posso anche dire come economista che il lavoro sporco di risoluzione del reddito l'ha fatto il centro-sinistra il governo il centro-sinistra e il governo il centro-sinistra dal 1992 il protocollo Trentino e quella roba lì fino al 2000 Berlusconi ha leggermente peggiorato le cose in più la stagnazione grazie a tre conti che il ragione a tre conti è un ridicolo quindi va bene detto questo però il lavoro sporco questo va riconosciuto e anche siccome io sono universitario voglio dire la nuova il capitale umano tutte queste falle che si raccontano il centro-sinistra non ha fatto assolutamente niente per dire questo è un settore prioritario e investiamo lì qualunque sanitario dobbiamo fare base di quello che ha fatto Paolo Schiop perché quel povero ministro che era chi si chiama che è il ministro là del sinistro di Berlusconi Muzzi voglio dire da morire da ridere voglio dire peggio che la Moratti allora se questo nella sinistra ammesso che ci sia ancora una sinistra non è una cosa prioritaria mio caro sindaco noi possiamo parlare di Caltanisetta che noi ci mettiamo ma andiamo verso Caltanisetta siccome il dibattito sulla crescita l'abbiamo fatto due ore fa di là questo era un dibattito sull'identità nazionale mi sembra quindi io cerco di essere siccome ho un'intelligenza limitata sto al tema del dibattito il tema era la costruzione dell'identità nazionale secondo me un modo per costruire l'identità nazionale per esempio è pensare che chi lavora in pubblica amministrazione abbia una sua dignità e riconoscibilità e reputazione sociale ho fatto una provocazione di questo tipo ma è una provocazione e non mi sembra una provocazione come dire campata per aria sì è anche avere uno stipendio che si appaga certo ma assolutamente infatti i meccanismi di valutazione vanno tutti messi in piedi e fatti all'inglese certamente bene allora scusate bisogna che andiamo a chiudere la discussione che è stata vera perché e di questo ringrazio anche Pennacchi perché ha reso vivace la discussione questa sera Lucio se posso prendermi tre minuti se vogliamo proprio stringere come può un paese darsi un progetto nazionale avendo rinunciato a una politica economica nazionale è impossibile allora noi possiamo fare diciamo tutti i dibattiti pedagogici io sono favorevole ai riti e alle celebrazioni per carità ma un paese che nella situazione di non crescita in cui è oggi accetta di organizzare la deflazione per il tempo prevedibile non può immaginare un progetto strategico le riforme a costo zero sono una puttanata è chiaro che se uno vuole fare un progetto nazionale deve avere dei soldi si deve indebitare ulteriormente deve fare come fanno gli americani il quantitative easing cioè deve stampare carta moneta almeno per un certo periodo deve fare un po' di inflazione perché altrimenti non si va avanti io non riesco a immaginare allora è chiaro che questo sistema di devoluzione della politica economica delle istanze abbastanza imperscrutabili può andare bene ai tedeschi o può andare bene ai polacchi ma non può andare bene a me allora o noi ci poniamo questo problema e quindi ci decidiamo a stabilire quello che è il nostro interesse in questo campo e lo difendiamo anche contro è un'esercizio Grazie a tutti.